Senti, Fry, prima di andare nello spazio verrai visitato dal dottore dello staff, però ti avverto è un tantino, come dire, beh, estruso. Porta sempre i sandali. Dottor Zoidberg, questo è Fry, il nuovo fattorino cosmico. Gli dia una controllata. Ok, iniziamo dalla testa. Vedi com'è efficiente. Bene, apra la bocca e diamo un'occhiata al cervello. Ah, no, 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 non quella bocca. Ne ho soltanto una. Ma davvero? Ah, non c'è un dottore umano qui intorno? Mia cara signorina, io sono un esperto di umani, forza, scelga una bocca, la apra e dica... Muoso, mia madre era una santa aliena fuori dai sandali.